Il Mestiere della Vita, la canzone che abbiamo appena ascoltato, la canzone che dà il titolo all'ultimo album di Tiziano è uscito anche il repack poche settimane fa con un'edizione speciale, Urban Acoustic, alcune canzoni selezionate insomma un disco interessante, quasi quasi un nuovo disco, non voglio andare oltre perché queste cose eventualmente ce le dirà lui Tiziano Ferro che abbiamo il grandissimo piacere di avere il nostro ospite oggi Ciao Tiziano Piacere, sempre sono mio, ciao a tutti e ciao agli amici di Radio Bruno, chi sta ascoltando e chi sta guardando Grazie davvero per essere con noi, allora un disco registrato tra Milano e Los Angeles, perché Los Angeles e che rapporto hai con questa città? Il perché è molto complesso da spiegare, è una città che mi ha trovato quasi residente tutto ad un tratto senza averlo scelto e tu dirai come è possibile trovarsi in una città senza sceglierlo? Soprattutto Los Angeles Ma in America succede questo ed altro, quello che vediamo nei telefilm succede, la surrealità degli eventi la prendono dalla vita di tutti i giorni A un certo punto io ero là, è la prima volta in vita mia che un posto non lo scelgo, non ho fatto una cosa a tavolino Mi sono ritrovato in un posto perché erano anni che ci andavo, ci volevo passare un po' più di tempo Dalla registrazione del disco è diventata un'estensione di giorni, mesi eccetera eccetera E quindi Los Angeles è arrivato nella mia vita senza, posso anche tranquillamente dire senza volerlo Sì, la faccia No è perché ha quasi sorprendente però in effetti è una di quelle cose che possono Sì, perché ci sono alcune ore di volo e poi è una città molto impegnativa, è anche difficile da capire subito Sì, è impossibile da capire, non la puoi capire nel momento stesso in cui ti avvicini al, in generale alla California Ma soprattutto a Los Angeles, tentando un approccio da turista medio sbagli tutto Perché non c'è una piazza, non c'è un centro, non c'è, non c'è, mancano i punti di riferimento che conosciamo noi E quindi ti devi un po' dimenticare queste cose e devi goderti l'atmosfera, goderti lo stile di vita E scopri che ci sono tante cose belle Ma lì si fa musica meglio, è questo che vorrei capire Ma sicuramente ci sono tantissimi musicisti molto bravi Ci sono musicisti che hanno inventato alcuni modi di fare musica, alcuni modi di produrre la musica Quindi è molto più semplice avere accesso a delle cose che da noi cerchiamo di riprodurre E lì ci sono le versioni originali, è come quando vengono da noi a comprare la moda, no? È un po' la stessa cosa E c'è un atteggiamento di grande spontaneità su alcuni livelli della produzione musicale Perché l'hanno iniziato a fare prima di noi, probabilmente da una cosa un po' più normale in quelle zone È come respirare per loro fare musica insieme E da noi è ancora un po' un mestiere da eletti Tiziano, cerco di mettermi comodo anch'io, ho visto Cerco di adeguarmi un po' alla tua... Alla posa yoga per chi ci sta guardando No, no, ma infatti, senti tu hai scelto un titolo abbastanza importante per questo tuo ultimo lavoro Il mestiere della vita, insomma, porta con sé un sacco di cose Tu hai quasi 38 anni, vai per i 38 A che punto stai col mestiere della vita? Nel senso, sei ancora un apprendista o cominci a padroneggiarlo, insomma, no? Innanzitutto grazie per aver detto quasi 38 e non quasi 40 Perché poteva essere... No, no, ogni cosa a suo tempo Era telefonata, era telefonata Vogliamo arrotondare per eccesso E poi apprendista assolutamente sempre L'importante è rimanere sempre disposto ad apprendere Perché è il privilegio più bello di chi fa questo mestiere Cioè è un mestiere che ti permette veramente di divertirti E non ci sono limiti Perché poi i limiti te li poni tu Quello che dicevamo prima Che dicevo prima io del fatto che qui in Italia a volte questo è un mestiere un po' dai letti È un grande limite e rende molto noioso questo mestiere Perché siamo in pochi a farlo E molto spesso ci crediamo di essere delle creature speciali che non siamo E questo limita la visione di noi stessi Ci limitiamo a fare quello che conosciamo Perché non abbiamo tantissimo confronto con tanti altri colleghi Spesso in Italia succede questo Ci crediamo in questa sorta di orticello personale E per cui il mestiere Diciamo prendere atto del fatto che uno vuole fare questo per mestiere Vuol dire scegliere sempre un po' di vivere con la schiena sul ciglio del burrone E quella sensazione cambia Il rapporto con quella sensazione cambia Cioè può essere terrificante Può essere divertente Può essere stimolante Impari a farlo Quando impari a farlo succede qualcosa che ti sconvolge gli equilibri A volte impari a farlo anche da persone Che boh Che non l'avresti mai detto Soprattutto se sono molto più giovani di te Ho letto da qualche parte che c'è un secondo capitolo della tua vita Che consideri iniziato Da quale punto di vista? È tutto spostato C'è chi inizia tutto a 40 anni Io ho iniziato attorno a 36 Perché Ma sì, guarda Io ho iniziato a fare questo mestiere a 20 A 20 anni non sai assolutamente chi sei Non importa che ti dicano che poi a 18 puoi firmare le giustificazioni Avere la patente eccetera eccetera Perché sappiamo benissimo che a 18 anni non hai idea Non hai idea di nulla Neanche a 20 Secondo me Per cui io ho fatto un percorso di persona Personale Di crescita L'ho fatto a confronto con una realtà Scioccante che è quella dell'esposizione continua Ed è un casino Detto proprio chiaramente È un casino che ti può portare All'annullamento di te stesso Oppure All'obbligo morale di guardarti allo spesso Pecchio dire no Qua c'è da far qualcosa Perché non è possibile E quindi E quindi sì C'è stata C'è stata un'evoluzione C'è stata Ma quella che hanno tutti nella vita Soltanto ecco che Noi artisti lo facciamo Lo facciamo così Platealmente Platealmente Quindi è bello segnare questi inizi Queste partenze Anche con l'uscita di un disco Perché poi quello che faccio io Io sparisco due anni e torno con un disco Non sono sempre lì Sono poco social Quindi tutti i post che non scrivo Vanno in un disco Tutte le foto per un pubblico Vanno in un disco Chi vuole sapere cosa è successo In quel paio d'anni Ascolta il disco ed è là Diciamo che non sei dispersivo Ma concentri un po' tutto Nel momento in cui deve uscire un disco In questo disco ci sono tante belle collaborazioni Una Non so se te l'hanno detto in tanti Ma comunque noi ci sentiamo di dirti Una è quella che ci ha veramente stravolto Ci è piaciuto un sacco Ed è la collaborazione con Carmen Consoli Il Conforto è una delle canzoni più belle Che siano state pubblicate Incise Pubblicate in questi ultimi anni Non te lo diciamo perché sei qua Ma perché è un dato oggettivo Ce lo dicevamo anche quando non c'eri Te lo posso garantire Magari ce l'ascoltiamo adesso E poi ne parliamo Il Conforto Una canzone bellissima L'abbiamo detto prima Ti abbiamo detto le nostre impressioni Siamo curiosi naturalmente di sapere Qualcosa di più a proposito di questo duetto Guarda la verità è che È stato un duetto che ha sorpreso anche me Perché io ho sempre voluto fare cose con Carmen Consoli L'avevo anche già fatte Perché avevo scritto con lei una canzone Anzi per lei e con lei Una canzone che si chiama Guarda l'alba E gliel'ho sentita cantare E mi sono innamorato ancora di più di lei Penso che lei sia unica E non è stata mai più prodotta un'artista Così estrema In tutti i sensi Negli anni da quando è uscita Carmen Consoli Perché lei riesce ad essere estremista Nella rabbia e nella tenerezza È commovente e a volte Soprattutto se l'hai vista dal vivo È estremamente sconvolgente Travolgente Possiamo dire passionale Ah sì La passionalità lo è al 100% Per cui ha aspettato per anni La canzone giusta per poterle chiedere Facciamo un duetto Perché volevo che questa occasione diventasse speciale Quando è arrivata il conforto ho detto È una canzone molto poco Carmen Consoli Ma io sono convinto Che questa sia la canzone giusta E infatti è andata così Però ripeto Non ho Non sono partito dall'idea di fare una collaborazione E poi ho cercato la canzone Questa è stata una cosa Ecco parlando del mestiere della vita È una cosa Era un progetto senza scadenza Prima o poi vorrò fare un duetto con Carmen Ma se non arriva la canzone giusta E se non vedo quella luce accendersi Non la disturbo E così non distruggi neanche un ideale Deve essere il massimo per me Siete amici voi due nella vita vera Vi frequentate? Come funziona? Racconta Carmen è imprendibile È una donna incredibile Non la vedi? Una donna anguilla Oddio questo non lo so Però sai questa riservatezza così estrema Siciliana Molto isolana Lei vive nel suo territorio Con suo figlio È molto dedita al mestiere di mamma E non che poi io non sia fondamentalmente anche così Prendi due persone così È molto complesso creare un'amicizia È fondata solo a quotidianità Però ecco insomma Sono quei rapporti che anche a scadenza Insomma annuale Si rinnovano sempre partendo da un buon punto di reinizio Tiziano abbiamo un sacco di cose da raccontarci Ti chiediamo una breve pausa A questo punto ci fermiamo C'è un pochino di pubblicità Ma torniamo tra poco Lento veloce di nuovo in diretta su Radio Bruno con Tiziano Ferro Ciao Tiziano Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno Sempre E di nuovo grazie per essere qui con noi Ci interessa capire Insomma tu sei stato a Los Angeles Hai raccontato prima l'atmosfera di questa città Sei una persona che passa molto tempo da solo? Ci sai stare da solo? Ci so stare da solo Sì ci so stare da solo Devo dire che sto un po' rivedendo il rapporto Il mio rapporto con la solitudine Perché per anni Sai parlavamo prima di quell'inizio di un nuovo capitolo di vita Sì Ecco la chiave intorno alla quale Poi ho costruito questo nuovo inizio È proprio il rapporto con la solitudine Perché io ho sempre pensato Di essere un misantropo E di essere uno che ama la solitudine E in realtà l'ho sempre temuta la solitudine L'ho sempre odiata la solitudine Però c'è un sentimento che supera quello del non voler star solo Che è quello di voler Quello dell'essere mal accompagnato E il fatto di non voler essere mal accompagnato Per cui io scelgo la solitudine Piuttosto che la compagnia a tutti i costi Gli opportunisti magari Anche per chi sei Non alziamo neanche il livello del discorso Parlo anche di compagnie da poco Cioè io o sto bene con qualcuno O preferisco stare da solo Il che non vuol dire che mi piace stare da solo Vuol dire che ci sono poche persone che mi piacciono forse Non lo so Questo non lo so Però capisci che la situazione è controversa Nel senso non mi piace effettivamente la solitudine Ma la preferisco ad una compagnia a tutti i costi Diciamo che sei una persona selettiva No? Eh però questa selettività mi porta molto spesso a stare da solo Quindi insomma vedi un po' tu Non so qual è Insomma la risposta è più che articolata È un casino La solitudine aiuta a capirsi meglio Eh ma ci siamo capiti un bel po' Eh basta capirsi Magari qualcosa è sfuggita Magari vale la pena Poi nel tuo caso insomma aiuta poi a scrivere canzoni anche Se forse sì Anche importanti Perché c'è tempo per pensare, per meditare eccetera eccetera Solitudine, stare insieme L'amore L'amore è una cosa semplice Come dicevi tempo fa È cambiata un po' l'opinione, l'idea È diventato un po' più difficile È diventato complicato Ricordo che eri convinto Dicevi è una cosa semplice Quando non è semplice è malato Bisogna capire questo Ah beh quello sicuramente Quello sicuramente no Guarda è La canzone Non è una canzone vecchia Non è un disco vecchio Eppure è una canzone che è rimasta in maniera molto più radicale Nella testa di chi mi segue Rispetto a tante altre canzoni che hanno più anni Perché evidentemente questo messaggio ce n'era bisogno Cioè molte persone avevano bisogno che questo messaggio venisse lanciato Perché molti sono vittima e cascano nella trappola delle situazioni di relazioni che si autoalimentano inutilmente Un po' ossessive Possessive, malate Anche quando parliamo di abuso è chiaro che adesso dobbiamo stare molto attenti sul tema Però chiaramente esistono dei gradi di abuso che sono molto meno evidenti di quello strettamente fisico Che portano le persone a rimanere incastrate in alcune relazioni E quindi ecco per quello dico il vero amore non è fatto di questo E su quel punto di vista sicuramente non ho cambiato idea Poi è chiaro che quando sei in una relazione anche molto bella La quotidianità non è così semplice Tu dicevi che non era affatto facile stare con te Ma oddio Conoscendo molte altre persone mi sono reso conto che è più facile stare con me che con molti altri So per esempio pensiamo ad Ivanka Trump Lei è messa peggio di chi starebbe poi eventualmente con me Avendo detto prima che sei una persona un po' serettiva forse le due cose in un certo senso si collegano Si può essere ma la verità è che E che credo che credo che insomma io ho tanti difetti legato Cioè voglio dire la mia vita è molto complessa legata soprattutto alla vita che faccio Però come persona mi sento uno che mette molto più in discussione tanti dei difetti che ho che ha Rispetto a tante persone che conosco che non lo fanno Quindi per quello dico a volte secondo me è più facile stare con me che con tanta altra gente Quando eri venuto in diretta da noi avevi annunciato Forse è stata una delle prime volte che l'hai fatto Che ti saresti voluto concentrare su un figlio L'idea di diventare papà Da allora non è successo nulla Qualcosa è andato storto o ancora non ci sono i tempi? No 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 in realtà quando ne parlai dissi non mi ricordo se con te forse quel giorno eravamo stracolmi di suggestioni Era un giorno pieno di cose Avevi detto un sacco di cose era stato un'intervista bellissima Un sacco di cose abbiamo parlato tanto c'era tanta gente eccetera eccetera Comunque il messaggio che lanciai quell'anno uscì da un Vanity Fair poi da lì il discorso andò avanti Fu vorrei mi do un'idea come limite 40 anni ecco insomma 40 anni come abbiamo detto prima Ci siamo Ma manca ancora un po' per cui non c'è fretta ecco io vorrei vorrei io ho ancora l'idea che comunque La cifra tonda ai 40 siano veramente una buona cifra perché vedo tantissimi dei miei mici adesso fanno figli intorno a quell'età E le cose sono cambiate a 40 anni sei molto dinamico sei sveglio sei pieno Di energie però hai anche già fatto tutte quelle cose che poi smetti di voler fare Sto parlando di far tardi sto parlando di far feste casini Anche perché fai più fatica non è solo la volontà Nel mio caso non so stanza se la fatica proprio che non c'ho più voglia E vedo che più vado avanti e meno ho bisogno di occuparmi di me delle mie esigenze Quindi credo che da qui a 40 anni che sono ancora un paio d'anni mi passerà ancora di più questa voglia E sarò sempre più disposto a dedicare attenzione a qualcun altro per cui credo che sia anche proprio organicamente una cosa giusta Amici di Tiziano organizzate feste fate casini da qui avete un paio d'anni Ho già smesso Prossimo intervista passeggino al centro della stanza ci piace già Senti l'abbiamo ricordata prima ce l'ascoltiamo adesso l'amore è una cosa semplice Tiziano Ferro L'amore è una cosa semplice Tiziano Ferro a Radio Bruno ancora ciao Tiziano Ci stiamo raccontando un po' di cose una delle varie è quella che vuole la musica come terapia quasi unica No o perlomeno molto efficace per lavorare sulle proprie paure sulle proprie ansie sui propri limiti No? Oppure i massaggi Oh belli i massaggi Non sottovalutiamo i massaggi No era per così per strammatizzare ma il ruolo terapeutico della musica non è che devo essere io a spiegarlo a nessuno Insomma è così Il bello della musica pop è quello che mi piace sempre ricordare che ormai la musica pop è la vera musica di rivoluzione Cioè il rock non esiste quasi più lo fanno in pochi Il pop è quello che si prende la responsabilità di dire delle cose E spesso parlare delle cose così come uno le pensa e come uno le vive Ci vuole molto più coraggio che farlo urlando Insomma ormai non si scrive contro il sistema Si scrive dell'uomo C'è bisogno tanto di parlare dell'uomo E questo mi sembra molto chiaro visti i tempi che corrono Si scrive dicendo la verità Raccontando la verità Io faccio molta fatica a dire cose che non penso Nella vita, nelle canzoni non ci penso neanche Cioè non lo considero neanche L'idea di poter dire una cosa in una canzone che non vivo e che non sento E proprio mi viene la psoriasi Cupo malinconico in qualche testo Oggi quanto c'è ancora di questo? Ma c'è un po' di tutto Ricordati lo dicevamo prima che comunque io ho iniziato a scrivere canzoni a 16-17 anni Il mio primo disco l'ho scritto a 20 anni Se non sei a 20 anni concentrato su te stesso In un certo senso quella cupezza Quel bisogno di evolverti come persona Che è una forma molto sana anche di egolatria In cui sicuramente ho sguazzato per anni Ho scritto il massimo delle canzoni di quell'epoca Parlano di me Del mio stato d'essere in quel momento Meno male Io parlo spesso della musica come salvezza Perché evidentemente per un ragazzo di provincia che esce da situazioni controverse E che viene spinto in un mondo ancora più controverso Il rischio di non poter trovare se stesso E di fare delle scelte sbagliate è altissimo E devo dire che le canzoni in quello Sono state perfette perché hanno riempito quel vuoto Gestire il successo così giovani È stato immagino molto complesso Veramente complessissimo Ho da poco conosciuto Ma mi è successo tanto tempo Per tanto tempo di conoscere questi ragazzi Che escono da trasmissioni televisive Vincono questi reality show eccetera eccetera E sono E mi provo una tenerezza sconfinata Perché Perché a vent'anni L'abbiamo detto prima Non hai idea neanche di cosa stai a fare al mondo Non sai chi sei Ti cade tutto un po' addosso Adesso Penso di sì Ma allora non lo capivo Quindi Quindi non lo so Credo che sia Ci sia del miracoloso Nel fatto che io sia qui oggi A parlare con voi due Sotto l'effetto di nessuna droga Ecco E questo ci conforta moltissimo Sotto l'effetto di nessuna droga A questo punto lanciamo un altro piccolo break pubblicitario Ma ci ritroviamo qui tra poco Ovviamente Ma insomma ci piace tanto anche questa canzone Valore assoluto Ne parlavamo prima Quando facevamo riferimento Al duetto con Carmen Consoli Il conforto Le sicule Questo è l'anno delle sicule Ma è un caso questo Sì Però sai io non credo veramente ai casi Quindi evidentemente c'è un filo rosso Ti hanno preso bene Mi hanno preso bene Mi piace anche la Sicilia Beh quello sicuramente Insomma anche in passato Ho collaborato con Vattiato Ce n'è un bel po' Anche perché come nel caso di Carmen Consoli Ha anche Levante Insomma l'hai un po' inseguita Ti ha affascinato Questa ragazza L'hai un po' inseguita Se lo dici così Sembra quasi Sembra i limiti dello stalking No 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 Diciamo che l'ho fatto in termini un po' più legali Un po' più consentiti dalla legge Ma sì Diciamo che ho cercato contatti con lei Ma ti avrà ringraziato moltissimo però Levante È un'opportunità straordinaria È una dolcezza sconfinata Che io non do mai per scontato Perché credo che l'educazione La dolcezza La tenerezza Siano valori dei quali dobbiamo essere grati Quando li riceviamo E lei lo è stato E lo è stata E quindi è stato molto bello cantare con lei Lei ha scelto questa canzone La terrò d'occhio sempre di più Perché insomma Lei è una che osa anche nei testi Hai collaborato con diversi artisti in questo progetto È una cosa un po' desueta per te Perché eri pronto? Ma no La collaborazione Ho sempre collaborato tanto in realtà La cosa che è cambiata in questo disco È la collaborazione nella scrittura Cioè mi sono aperto un po' di più Alla scrittura con gli altri Forse perché dopo tanti anni di mestiere Il mestiere capisci anche L'evoluzione di un mestiere Sta nell'interazione con gli altri Cioè perdere un po' quel senso di gelosia E di protezione un po' innecessaria Di quello che fai Perché poi è tutta paura Insicurezza Cioè iniziare ad aprirsi Anche al punto di vista di qualcun altro E sporcarsi le mani E quella è una cosa che prima Probabilmente non avrei mai fatto Per il discorso di isolamento Voglia di solitudine a tutti i costi È come se la solitudine nella mia testa Potesse dare senso alle mie parole In realtà invece la vicinanza Le rende ancora più importanti Le parole delle persone Perché scoprire alcuni autori nuovi Che poi ho veramente scoperto E con i quali voglio collaborare ancora di più E scrivere con loro è stato bello E anche rinfrescante per la mente Anche perché bisogna essere aperti A un confronto Che potrebbe significare La mia idea Non è sempre l'unica possibile Soprattutto potrebbe non essere quella vincente No, quello di sbagli La mia è proprio l'unica possibile Ah, ok Senti, questa bella risatina Adesso ci facciamo Ci facciamo un attimo I cavoli tuoi Una domanda un pochino più personale No, nel senso che Sono passati, credo a occhio e croce Sette anni del tuo coming out Sette anni? Più o meno Allora, la domanda è Da sette anni a questa parte È cambiato qualcosa? Se è cambiato qualcosa nei tuoi confronti Come la gente si pone nei tuoi confronti In generale Le percezioni che hai intorno a te Ma potrei scrivere un altro Ho scritto due libri Ma potrei scrivere un altro libro Soltanto sulla percezione Proprio sulla percezione La mia è quella che gli altri hanno verso di te E è un territorio interessantissimo È molto stimolante Ho scoperto delle cose molto belle dell'animo umano Molto più belle che non belle Se devo essere sincero E io sono cambiato molto Sono molto cambiato Rispetto a sette anni fa Quando timidamente E per disperazione Io dico sempre che sono stato benedetto Dal dono della disperazione Perché senza quello Non avrei fatto dei passi Che hanno decisamente migliorato la mia vita E l'ho fatto solo per me Sia chiaro Non l'ho fatto per nessuno L'ho fatto per salvarmi Da un degrado Che stava per avvenire Sicuramente Avrebbe preso delle derive Inevitabilmente drammatiche Ti saresti perso E questo è chiaro E poi questa cosa è diventata tante altre cose È diventata qualcosa per qualcun altro E sono felice Ma sia chiaro Non l'ho fatto per nessuno Se non per me Quindi Ed è molto importante capire Che quando hai un insoluto Devi migliorare per te Qualunque cosa Se non lo fai per te Non lo puoi fare per nessun altro Gli altri Gli altri secondo me Sono sempre pronti ad accogliere la sincerità Quello che dicevo prima Farei fatica oggi A dire qualcosa che non penso È impossibile per me E tutto è partito da lì Perché ho capito La lezione che ho imparato Da quell'episodio È che la verità Porta sempre e solo cose buone Sicuramente migliori delle menzogne E oggi ti dico Quello che è cambiato La gente Non lo so Non credo sia cambiato molto Sono cambiato io Non credo più che altro Perché credo di poter dire Che siamo un paese abbastanza omofobo Tutto sommato Sì E quindi omofobo Vuol dire anche È sufficientemente pieno di pregiudizi E quindi Probabilmente è vero Probabilmente è vero Infatti quello che ti volevo dire È che io Sono cambiato io oggi Nel senso che io Sette anni fa Mi sono reso conto Che ho fatto una cosa per me E chiedevo E chiedevo a tutti Di rispettare tutti E di voler bene a tutti Ma io oggi Sono il primo Ad essere abbastanza intollerante Verso chi Non è sincero Nei confronti Delle persone Intorno Intorno A lui E quindi Le persone Che non Che non escono fuori E non ne parlano Che non vivono nella verità Non riesco Non riesco ad avere Grandissimo Grandissima stima Poi ognuno fa quello Che vuole nella vita Io non sarò mai Quello che spinge Le persone Verso direzioni Che loro non scelgono Però io oggi faccio fatica Faccio molta fatica E credo che quello Che tu hai detto oggi È vero C'è bisogno di parlare Ancora molto C'è bisogno di Di avvicinarsi alle persone Perché le persone Siano Semplicemente pronte Ad avvicinarsi a te Perché fondamentalmente Sono gli esempi positivi Che mancano Se tu dai la possibilità Alle persone di capire E di avere dei riferimenti Le persone sono pronte a capire Ma se mancano gli strumenti Questo non può accadere Per cui Così può avere meno paura Anche chi adesso ce l'ha Anche a di sotto Del palcoscenico Probabilmente sì Grazie Senti io direi Che a questo punto Ci possiamo ascoltare Uno dei tuoi classici Mi piace la parola classica La tua canzone Più famosa E la sua Una cosa Che sono molto geloso Del fatto che Giovanotti Nel suo ultimo singolo Dica di se stesso Sono un grande classico È una frase bellissima Di quella canzone Oh vita Che mi piace un sacco Perché gliela invidio È bello poter dire di se stessi A 50 anni Sono un grande classico Perché Lorenzo lo è E quindi grazie Perché mi piace questa parola Potevo dire uno dei tuoi più grandi successi Ma comunque Classico È più bello Io andavo a dire classico Quindi parliamo di sere nere Quindi ce la possiamo cantare Tutti insieme A tra poco Di nuovo in diretta Con Tiziano Ferro Ciao Tiziano Ciao a voi Ma quante cose ci hai raccontato In questo appuntamento Sai che potremmo andare avanti Hai detto che era un grande classico Di Tiziano Ferro Quella che ha appena passato Ah no abbiamo detto solo classico Grande Fra qualche anno Ma credi la varie Ma grande classico È già un grande classico Hai fatto un tour negli stadi A te ho capito che piace molto La dimensione degli stadi Mi piace da morire Adesso però fermo un pochino Sì fermo un pochino Gli stadi Devo essere sincero Alla fine del tour Mi è mancato un pezzo È come se Se questa volta Non so Avrei Sarei andato avanti Ero stanco Ma non stanchissimo Perché mi diverte Io veramente sono In continua contraddizione Con chi Con chi dice che lo stadio È un posto grande Non crea empatia È assolutamente falso Lo stadio crea Una grandissima empatia Tra pubblico E chi suona L'ho vissuto da pubblico Lo vivo da cantante È meraviglioso Guarda Non so Farei di tutto Perché Per farti provare Quello che si prova A condividere la tua musica Con In quella situazione È una grande festa Stupenda E divertente Lo rifarei domani Mi sarebbe il tuo talento Ma comunque ti ringrazio Però un milione di volte Ci abbiamo provato No È immaginare Che cosa può provare Un cantante Quando è sul palco Davanti a decine di migliaia di persone Rimarrà Rimarrà Un desiderio spesso Del mondo E lì è difficile Arrivarci da pubblico Quali concerti Vai a vedere Se ci vai Quest'anno sono andato A vedere Ed Sheeran Poi sono andato a vedere Lauren Hill Che è stato Meraviglioso A Los Angeles Uno dei concerti Più belli della mia vita Lei è assolutamente A fuoco E non è facile Trovarla a fuoco Mi dispiace dirlo Ma ultimamente Non è stato facile Quella sera lo era Ha cantato tutto il repertorio Di Fugees Tutto il repertorio Di Miseducation Ha cantato Killing Me Softly Non vi dico cosa ha fatto Sono andato a vedere Maxwell E adesso sono Vorrei Perché non è facile Trovare i biglietti Perché lei ha fatto Tutto un meccanismo Di prenotazione digitale Vorrei vedere Taylor Swift Non è facile per te Non è facile per te Ciao Ciao Taylor Avrei bisogno di due Quattro biglietti Fai un po' Due e quattro Magari qualcuno viene con me Non lo so Comunque diciamo che vorrei vedere Taylor Swift È difficile per Tiziano Ferro Immaginate cosa può essere per noi Credo che siamo arrivati alla fine dell'intervista Mi stavo abituando a questa Amplificatore Marshall Un po' mi dispiace Siamo nel periodo di Natale Ci puoi dire Come trascori tu Le festività natalizie Ce lo sveli? L'unica cosa Che non è mai cambiata Nella mia vita Non è detto che non cambi Ma per ora Non è ancora così È che comunque Il Natale lo passo con la mia famiglia In maniera molto semplice Devo dire anche senza grandi fronzoli Il che mi rende molto felice Se devo essere sincero Perché Insomma La mia vita è già piena di fronzoli Quindi viva il Natale Per quello Grazie Grazie a Tiziano Ferro È stato un grande piacere Tiziano Speriamo di poterci incontrare quanto prima E intanto In bocca al lupo Per tutto quello che verrà Grazie a voi e agli amici di Radio Bruno